La coalizione di centrodestra che supporterà Pierluigi Biondi nella sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali di giugno si presenta. Nei giorni scorsi il tavolo del centrodestra è tornato a riunirsi per fare il punto sul programma e sulla composizione delle liste in appoggio a Biondi. Il tavolo ha definito la compagine e il numero delle forze in campo. Si tratta di un ampio perimetro che include partiti tradizionali e consolidati e forze civiche e neonate alla prima esperienza elettorale. Oltre a Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, L'Aquila Futura, L'Aquila al Centro e Progetta, Biondi potrà raccontare anche sull'Ecole Italia e Partito Repubblicale Italiano. Sei in tutto le liste. La civica di riferimento del sindaco si chiamerà Civice Indipendenti per Biondi Sindaco che raccoglie l'eredità anche nelle forme e nei colori del simbolo di benvenuto presente che nel 2017 raggruppava un nutrito gruppo di simpatizzanti. I prossimi giorni saranno dedicati all'avvio ufficiale della campagna elettorale, agli incontri sul territorio e a quelli più ampi anche tematici. Sì è un centrodestra che si allarga ulteriormente rispetto alla compagine di cinque anni fa. È un centrodestra compatto, dal territorio arrivano importanti segnali di unità perché qui non è mai stata messa in discussione la compattezza della coalizione. Abbiamo molti esponenti importanti politici che oggi verranno a ribadire che è necessario continuare il lavoro fatto in questi cinque anni. Siamo molto fiduciosi sull'esito elettorale. Al momento sono sei liste tutte ben strutturate e compatte. Stiamo buttando nel lagone i candidati tanto per far correre più gente possibile. Stiamo facendo un lavoro ragionato, strutturato sia di partito sia a livello civico. Presenti il presidente della regione Marco Marsiglio e diversi parlamentari del centrodestra oltre ai segretari di partito. Punto di forza è che c'è una vera coalizione, dice il senatore Gaetano Quaglierello. All'Aquila il centrodestra è stata una coalizione a differenza che altrove. Devo dire il fatto che è stata una coalizione è anche un po' testimoniato dal fatto che noi ci presentiamo col centrodestra. Perché noi siamo di centrodestra ma riteniamo che le coalizioni hanno un senso solo quando hanno un progetto, non quando sono una convenienza elettorale.